Si intensificano a Teramo città i controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle norme anti-covid. Si ripetono però, sempre più spesso, episodi di intolleranza verso gli agenti di polizia, i carabinieri e i vigili municipali. Questi ultimi sono stati aggrediti verbalmente proprio ieri da un gruppo di trentenni, in pieno giorno e in pieno centro storico. Ubriachi, assembrati e senza mascherina, gli uomini non hanno preso bene il richiamo dei vigili, dando in escandescenze. Sotto stretta osservanza restano quindi le attività di distribuzione di bevande e alcolici. La polizia locale ricorda che dalle 18 in poi i bar devono chiudere, non possono fare asporto ed è proibito bere in strada. Regole che ancora oggi non sono chiare a tutti. Il bar Duomo in Piazzorsini, per esempio, è stato appena multato per essere rimasto aperto dopo l'ora consentita. 200 euro di sanzione che incidono purtroppo duramente sul bilancio dell'attività. Purtroppo è stato multato per non aver rispettato alcune regole di apertura e chiusura, ma insomma la situazione è difficile per voi? Sì, abbastanza, perché comunque sia, le multe comunque si deve pagare, il lavoro è quello che è. Perché è stato multato? Ieri sera sono venuti vigili, erano le 7.20. Io personalmente sapevo che comunque sia che l'avevo letto dopo un sito che si poteva lasciare aperto a sporto dopo le 6. Invece i vigili sono venuti e mi hanno detto che no. E quindi è scattato l'ispezione, la contestazione e tutto. Come ve la siete passata in questi mesi di lockdown? Insomma, la verità non tanto bene, però riesco a mantenermi, anche perché sto solo, non sono dipendenti, quindi riesco a pagare l'affitto, la luce.